Una mobilitazione per impedire la dismissione dell'antenna RAI, le associazioni ambientaliste e il comitato spontaneo chiedono il mantenimento del vingolo in un braccio di ferro con la sovrintendenza ai beni culturali e diffidano la stessa alla revoca del parere favolevole allo smantellamento. Ma dall'altro lato ci sono anche i residenti che hanno rischiato di dover lasciare le loro case perché il Rai Guai è dichiarato pericolante la struttura. Solo dopo l'intervento del sindaco contro lo sgombero i residenti della collina Sant'Anna sono rimasti a casa. Questa dell'antenna RAI di Caltanissetta è una tipica triste storia siciliana. Abbiamo un bene culturale di enorme valore, riconosciuto a livello regionale, nazionale e internazionale. In una qualunque altra parte del mondo questa antenna sarebbe stata un centro nevralgico di sviluppo, di cultura e di nuove risorse per il territorio. Invece qua a Caltanissetta la sovrintendenza contro i beni culturali ha dato l'ok in maniera incredibile sia nei modi che nei termini, ha dato l'ok a RAI Guai che invece di operare nel senso dell'incremento della cultura nel nostro paese, RAI Guai ha deciso di abbattere questa antenna, questo bene culturale. Dinanzi i cancelli di RAI Guai anche alcuni consiglieri comunali che tra l'altro in un consiglio hanno vincolato con una mozione l'amministrazione a salvaguardare l'antenna. Il sindaco Roberto Gambino insieme al presidente del consorzio universitario Walter Tesauro ha infatti presentato un progetto per un finanziamento da 12 milioni di euro dove è stata inserita pure l'antenna come bene da tutelare. Un sit-in promosso dal tutto il consiglio comunale all'unanimità in maniera trasversale qui sotto l'antenna RAI, la storica antenna RAI dopo che ieri si era diffusa la notizia che oggi 22 novembre sarebbe iniziato l'iter per smantellare l'antenna. Un'accelerazione strana che testa molta preoccupazione sia il comune dopo la mozione presentata all'unanimità dal consiglio comunale alla quale il sindaco ha dato seguito per impedire la demolizione sia dopo l'intervento anche dall'assessore regionale bene e culturale che ha chiesto alla sovrintendenza di muoversi per impedire l'abbattimento. Prendiamo atto che oggi qualcosa in negativo si sta muovendo per togliere quella che vedete alle mie spalle e il consiglio comunale, la città intera, si opporrà. Il mantenimento della struttura esoso da parte della RAI è la sentenza del Tarre evidenzia che la manutenzione sarebbe a carico dell'assessorato regionale e beni culturali dove l'antenna dovesse restare in piedi. Non replica la sovrintendente Daniela Vullo che si riserva di rispondere nelle sedi opportune ma aggiunge una suggestione, un momento di riflessione per i cittadini. Se ci fosse stata la tutela paesaggistica, come mai, dice nel 2017, i miei predecessori avrebbero dovuto attivare le procedure di un vincolo diretto con un decreto che poi il Tarre ha rigettato?